In questi ultimi giorni di avvento, il Vangelo ci mette davanti all'incontro di due donne in attesa. Il testo di Luca è ricco di gioia e di entusiasmo. I verbi e gli aggettivi usati indicano trepidazione, concretezza nel compiere determinati gesti. Maria, dopo l'annunciazione non si interroga sulla potenza di Dio, ma si chiede quale sia la sua volontà e ottiene un segno, pur non avendolo chiesto. Maria corre dall'unica che in quel momento può davvero capire la sua nuova situazione e condividere la stessa gioia, ma la sua è anche una visita gratuita, come gratuita e l'opera del Signore. Il racconto continua con il saluto tra le due donne, il saluto che è rottura delle stranietà, inizio della relazione, accoglienza dell'altro. È bello sottolineare come basta il saluto di Maria a far sussultare di gioia il bambino nel grembo di Elisabetta. Non sono importanti le parole, basta la voce. Sullo sfondo di questo testo c'è lo Spirito Santo, guida e luce di entrambi. È lo Spirito che muove Maria e la rende capace di sfidare i pericoli di un viaggio nonostante le sue condizioni. È lo Spirito che fa pronunciare a Elisabetta il titolo di madre del mio Signore e che conferma il sì di Maria. Il Vangelo di oggi termina con la benedizione di Elisabetta, beata colei che ha creduto, ed è nel credere in queste promesse grandiose che le due donne hanno incontrato Dio. 33 anni dopo Gesù dirà a Tommaso perché mi hai veduto tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Lasciamoci carissimi incontrare da Lui, credendo che tra pochi giorni rivivremo l'assurda promessa di un Dio che si incarna per camminare accanto a noi. Buona giornata a tutti!